Walter, abbiamo parlato appunto, che abbiamo nominato poco fa, l'Art Bonus. Che cos'è e che cosa può portare appunto l'Art Bonus per le periferie anche, magari, no? Ma potrebbe essere interessante come ricaduta. L'Art Bonus è uno strumento che è stato introdotto dal punto di vista fiscale, quindi chi fa donazioni oltre 20 euro a tutta una serie di enti che hanno la possibilità di raccogliere questi fondi, hanno una detassazione del 65%. Adesso, al di là del tecnicismo, però è una modalità di mecenatismo, chiamiamolo così, e quindi di apprezzamento del lavoro che stanno facendo anche tutta una serie di realtà e che quindi hanno la necessità di avere anche un sostegno economico. Siccome i soldi sicuramente girano e quindi possono girare, tra virgolette, male, possiamo spendere in giochi strani, mettiamoli in questa maniera, e invece possono essere anche dedicati a aiutare la cultura e la cultura esattamente è un arricchimento per tutti quanti. Ecco, nel contempo diciamo che finora l'Art Bonus ha premiato chi? Ha premiato le realtà più conosciute e quindi in capo a tutti, se non rammento male, c'è la Scala di Milano, ma questo è nell'ordine delle cose. Ecco, questo però che cos'è che comporta? Che se ci sono delle risorse che prima non erano nei piani di distribuzione, arrivano, e arrivano anche a determinati enti, ecco che allora si possono aprire degli spazi per quella iniziativa culturale sul territorio che normalmente non si conosce ma c'è. Noi continuiamo a dire che abbiamo mappato e sono visibili sul sito periferiamilano.com le realtà culturali presenti fuori dal centro al cerchio milanese, quindi parliamo di oltre 100 teatri, parliamo di più di 60 biblioteche, quasi 200 tra associazioni e centri culturali e anche oltre 20 musei, come dicevamo prima, sparsi per il territorio. Ecco che allora anche una politica, diciamo così, istituzionale, comunale può, siccome c'è qualcuno come la scala che ricevi da una parte, sicuramente magari alcune risorse che erano dedicate ma sono adesso coperte dal mecenatismo, possono essere maggiormente dedicate perché sono veramente risicate le risorse che vengono proposte, date anche a chi promuove cultura sul territorio periferico e ricordiamo ci sono circa 400 realtà che promuovono cultura. Ecco, questo ci consente di maggiormente evidenziare anche le giornate periferi armiti di cui dicevamo prima, proprio perché questo aiuto ad avere una conoscenza della città ma anche cercare di avere una decisione politica che consenta di partire, diciamo anche a guardare le cose, dalle periferie della città, dai confini della città, invece che sempre partiamo un po' dal centro e poi si arriva anche in periferia. Quando si arriva in periferia che è l'80% della città, diciamo che si fa un po' fatica, si arriva in attacco. Se partiamo da l'80% arrivi stanco, dobbiamo fare il contrario, partendo dalla periferia da un centro, vabbè anche se arrivo stanco ma tanto siamo in tanti che ne abbiamo in centro, quindi dobbiamo fare il contrario. Il tema della città attrattiva è sicuramente importante ma la città abitativa è quella che quotidianamente 365 giorni all'anno è all'opera, in una maniera o nell'altra consente anche di accogliere la città attrattiva e di mantenere la città attrattiva. La città attrattiva che è famosa, Milano, per le varie week, per le varie settimane a tema, diciamo, sta arrivando una, non l'hanno chiamata week, no, ma sta arrivando una rassegna, una manifestazione appunto che ha a che fare con la musica, giusto? La musica, diciamo che è una puntata, no, è Piano Lovers che si terrà questo fine settimana esattamente sabato 21 alle ore 16, diciamo non è propriamente in periferia perché è l'auditorium San Fedele, via Oepoli e quindi ci sono pianisti in concerto e ci saranno musiche le più ampie da bacca, classico, romantico e moderno, l'ingresso è gratuito con una mail all'area cultura chiocciola fondazioneabitiamo.it, ecco comunque l'iniziativa promossa appunto da Il Clavicembalo Verde con il patrocinio del Municipio 9, quindi ecco è un'occasione per andare ad ascoltare della musica e anche, diciamo così, pianisti amatoriali che però non pensiamo che siano dei pianisti di secondo livello, secondo momento perché magari nella loro vita hanno deciso di fare altre cose, poi si sono appassionati successivamente. Sono appunto dei piano lovers. e quindi c'è stata anche la premiazione qualche tempo fa al conservatorio e quindi persone che suonano molto bene, ecco è un'occasione interessante. Ricordiamo dove, Malta? All'auditorium San Fedele in via Oepoli 3 barra B. Quando? Sabato 21 ottobre alle ore 16. Sabato 21 ottobre alle ore 16. Ma invece le giornate Periferia Artmi appunto cominciano venerdì mattina e si chiuderanno domenica. Ricordo anche tra le altre cose la chiesa dei Santinereo Achilleo dove troverete qualcosa di particolare sicuramente, andate a vedere sul sito comunque periferiaartmi.it, questi nuovi quadri, 12 nuovi quadri grandi ciascuno 5x4 metri, quindi 20 metri di grandezza, dipinti con il sistema delle icone e quindi una cosa molto particolare con i cicli della quaresima e dell'avvento. Ecco, sicuramente sarà una occasione interessante e nuova. Perfetto, allora, Malta, ti ringraziamo come sempre, ci vediamo di nuovo, ci riascoltiamo, ci rivediamo di nuovo un martedì prossimo, tante le cose da dire sulle periferie sempre, quindi ci saranno sicuramente temi. Periferia all'opera. Periferia all'opera, bello. Questo nuovo slogan dovremmo metterlo sul sito della consulta. Ricordiamo il sito? Periferiemilano.com Periferia all'opera, bello. Periferia all'opera.